è un filo chiuso mongolo ti entra più gente col filo chiuso ho messo per il filo chiuso ma dai la vanno a ritirarla levati al cazzo levati alla mia allora se la per il filo chiuso ti entra più gente col filo chiuso ho messo per il filo chiuso ti entra più gente col filo chiuso con tutti quelli che entravano in live ma dai ma dai la per il filo chiuso chiuso